Oggi mettiamo a disposizione con questa iniziativa portata avanti dal Dipartimento Casa Italia in collaborazione col Dipartimento Protezione Civile un bando per i sindaci delle isole minori marine per 100 milioni di euro, destinati a mettere in sicurezza le infrastrutture strategiche delle medesime isole, strutture strategiche pubbliche. Ricordo che di recente c'è stata una modifica dell'articolo 119 della Costituzione, si è tanto dibattuto il tema della insularità, questo significa, lo richiama l'articolo 119, che lo Stato è impegnato a intervenire per ridurre i disagi, le diseconomie legate alla insularità. Quindi non è soltanto il più massiccio intervento di prevenzione antisismica, ma è anche il primo concreto intervento per dare senso a quanto stabilito da una norma costituzionale.